200 in Abruzzo, 1500 in Italia. Qualcuno li definisce i fantasmi dei tribunali. Sono i fonici, i trascrittori e i stenotipisti forensi, coloro che svolgono un ruolo fondamentale di trascrizione di tutto ciò che avviene all'interno di un processo. Sistemano le parti incomprensibili e revisionano le bozze. In sostanza si occupano della documentazione degli atti processuali. Lavoratrici e lavoratori in appalto per ditte esterne, ai quali viene applicato il contratto nazionale dei servizi di pulizia e multiservizi. La riforma cartabia mette fortemente a rischio le loro funzioni, tra automatizzazione e nessun riferimento alla loro stabilizzazione. Per questo Filcams CGL Abruzzo e Molise ha indetto per oggi una giornata di sciopero in tutti i tribunali per porre l'attenzione su quella che rischia di essere una vera e propria avvertenza e che in caso di asprimento potrebbe portare a bloccare tutte le attività all'interno dei palazzi di giustizia. Siamo qui per scioperare non solo per la nuova riforma cartabia, che prevede quindi un'eliminazione dei fonici e dei trascrittori conseguentemente, però un impianto che dovrebbe registrare e trascrivere in automatico, con tutte le difficoltà di un impianto e non di una persona che sa correggere gli errori in automatico, che sa cosa i giudici vogliono o non vogliono in una trascrizione, che sa eliminare gli omissis o anche le semplici questioni interpersonali magari che vengono registrate al microfono e che una persona umana riesce a togliere all'interno di una trascrizione ma che una macchina non farà. Quindi ci sarà bisogno di un revisore di bozze, ma anche questo non sarà preparato come noi che lavoriamo da più di vent'anni all'interno dei tribunali. C'è poi il tema della precarizzazione con un inquadramento contrattuale per nulla congruo con quelle che sono le funzioni di questi lavoratori, che sono tra i pochi che gravitano nel vasto mondo della personale, alle dipendenze del Ministero della Giustizia, ma che fanno riferimento a ditte esterne che rinnovano gli appalti ogni due anni. Chiediamo anche l'internalizzazione perché effettivamente siamo quei pochi lavoratori che lavorano per il Ministero della Giustizia, ma che effettivamente si appoggiano a delle ditte che prendono gli appalti di volta in volta, ogni due anni. Quindi sì, chiediamo questo perché lavoriamo a stretto contanto con giudici, cancellieri, avvocati, però siamo poi dipendenti di ditte.